buongiorno cari amici eccoci qua sabato come al solito ci vediamo io sono andrea del corno laura mastro berardino adesso lascio la parola laura per il suo saluto abbiamo un ospite d'eccezione leandro cantamessa che io gli ho detto esperto di calcio ma lui mi ha detto che in realtà è contestato dai figli questa sua qualifica appassionato di calcio legale storico del milan e da sempre segue il mondo del calcio anche professore università studente sport laura eccoci eccoci già rappresentato il nostro ospite che qui con noi chi ci segue da social lo può vedere e puntata complicata per me perché come i nostri amici sanno il calcio è quella cosa che si sente ogni tanto e che permette a me di cambiare canale quindi praticamente non ne so nulla ascolterò ma abbiamo un ospite che oltretutto fa un lavoro particolarissimo e quindi io indagherò questo lato della sua vita ai calcisti e calciatori e calciofili tutto il resto quindi andrà la parola io e leandro siamo vecchi milanisti quindi un qualche piccolo come dire digressione la faremo ma in realtà prima di cominciare t'ho chiesto come stai tu mi hai detto ho passato la notte in bianco e poi ho detto lo rivelerò in trasmissione e quindi la domanda è perché hai passato la notte in bianco dopo la vittoria dell'inter sulla juventus io ho cessato di vedere le partite del milan le uniche partite che da quando sono al mondo vedo perché in realtà io detesto il calcio ma ma io amo il milan ed è una questione di pericolosa auto identificazione perché ho fatto convogliare la mia natura non passionale per niente anzi abbastanza algida in nelle vicende di questa squadra per ragioni un po' dinastiche nel senso che dinastica parola grosso ma sono familiari perché mio papà cominciò a portarmi a san siro quando ero piccolo ma proprio piccolo avendo giurato a mia madre che non avrebbe mai più messo piede mai messo piede in uno stadio utilizzo me vittima innocente e inconsapevole per poter andare allo stadio dicendo il bambino vuole andare a me non me ne fregava niente comunque io sono entrato nella parte ho considerato che la bugia di mio padre era una bugia legittima perché dietro la bugia di mio padre ci stava la libertà la sua e quindi sono stato al gioco stai al gioco un giorno stai al gioco due giorni è diventata purtroppo una passione tra il drammatico e il lacrimevole perché ho detto sono varie giornate che non vedo le partite del milan vengo solo informato dai miei figli e purtroppo dall'inquilino del piano di sopra va bene questo succede anche a me ne andrò incontro regolamente mio amico mio collega caro amico interista su importineria tutte le mattine fai tu no ma quello urla quello non solo riceve fidanzate e io sono messo a parte di quello che accade ma quello va benissimo diversa ha delle signore entusiaste e il problema è che quando l'inter fa un gol io sento delle urla belluine e così quando il milan ne prende uno ma scusa le signore entrano già con la maglia da calcio non so io non le ho mai viste io ho semplicemente il sonoro delle vicende no no e l'audio alla mia età sono ricordi remoti che non danno fastidio minimamente poi dimmi una cosa però dopo laura ha in mente delle questioni non mica finito la mia storia no no scusa hai ragione no è una storia triste quindi ecco io ero a letto che stavo mi ero ricoverato a letto alle 21 e 05 dopo aver visto che l'inter era già andata in vantaggio questo per un errore perché volendo leggere Dago Speer è andato a finire nel nel corriere della sera quindi Perisic che segna subito vabbè ho detto tranquillo basta parlo più è chiuso e quindi mi sono ricoverato lì a un certo momento ma avanti nella partita ho sentito dal piano di sopra una percussione violenta perché questo batte i piedi ma accompagnata da un lacerante grido di dolore a questo punto ti sei preoccupato giustamente ma no preoccupato mi sei aperto un mondo chi dormiva più tenete conto che io blocco tutti i messaggi degli informatori tutti i miei amici milanisti o interisti quando non voglio sapere il risultato di una partita ne avevo lasciato aperto uno che non mi scrive mai mai questo mi scrive invece subito dopo l'urlo di dolore e mi dice l'inter sta perdendo 2 a 1 da quel momento io mi sono ricoverato in cucina perché così non sentivo più le urla verosimile nel mio timore c'erano di gioia insomma dell'inquilino del piano di sopra e sono rimasto lì a guardare un pezzo di un orrendo film di fantascienza purché mi distraesse fino alle 22 e 40 alle 22 40 sono tornato in camera e ho trovato 18 messaggi sul cellulare ecco da quel momento in poi non è più dormito no nonostante delle dosi massicce di benzodiazepine non sono riusciti massiccere non sono riuscito a chiudere la domanda che può sembrare sciocca da una non tifosa ma perché non vedersi la partita a quel punto tanto ormai ma non vorrei morire adesso secondo me la prendiamo proprio così certo secondo me ho ancora qualche cosa da fare nella vita e non è che morire per il milan sia una brutta cosa in fondo non è così male perché coinciderebbe con lo zenith di una passione senti ma dimmi una cosa però visto che tu ormai siamo entrati sul tema lo comprano gli arabi o no non lo so sono nella condizione delle donne oggetto io quindi donne oggetto per i maschilisti severi però senti di una cosa non lo so penso di sì però eh sì sì ma tu vieni anche tu dal calcio sì sì io vengo dal milan perché tu hai sempre io ma anche la laura è coinvolta eh no col milan no no col milan è coinvolta no 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 è coinvolta la discussione calcio se devo scegliere una squadra di calcio lo faccio esclusivamente per i colori è un'affezione infantile e mi dispiace ma è la juventus perché il bianco e nero sfila c'ha le righe è una cosa così questo è il massimo della mia partecipazione è un'affezione estetica quindi accettabile no io volevo dirti una roba ma senti un attimo ma veniamo tutte e due dal vecchio io vengo dalla serie B figurati cioè io prima ma c'è anch'io no anch'io ma voglio dire però eh eh l'Italia per tua esperienza il sistema paese la classe imprenditoriale si si legge ogni tanto no che la classe imprenditoriale alla Rizzoli se vuoi alla Berlusconi stesso e così via non regge più il peso economico di una squadra che sia in grado di competere a livello internazionale adesso per entrare in un tema un po' più diretto è così non è così quanto è così perché poi c'è il tema delle plus valenze poi su quello ti interroghiamo non credere no no è così il calcio se uno vuole cercare un modo per buttare via dei quattrini quello è prendere una squadra di calcio poi dopo qualche cosa in cambio ti dà al di là della passione della partecipazione che non sono beni trascurabili eh ti dà visibilità eh ti fa diventare molto più di un politico dal punto di vista della visibilità certo hai i tuoi nemici eh vedi lo Tito che viene sempre dileggiato allo stadio eh ma se le cose van bene e questo è quello che ognuno spera la visibilità è importante perché poi ti consente anche di avere contatti col mondo dell'impresa che possono essere profittevoli sul piano economico però per fare questo ci vuole tanto 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 denaro se vuoi avere la visibilità se ti contenti di una visibilità locale allora tutto scende di costi di valori eccetera adesso io mi sto occupando dell'acquisto di una non ancora determinata società di serie C i costi sono da parte di stranieri ovviamente non ormai non c'è più eh difficile trovare un imprenditore italiano eh che ci mette troppi soldi io non so se questo sia un bene o un male un fatto ecco molte società ormai sono nelle mani eh in senso buono insomma degli americani che eh o sono più appassionati degli altri o hanno più denaro degli altri insomma oppure ritengono di fare un affare e può darsi che mi sbaglio sbaglio io quando dico che eh è un sistema per butta via i quattrini ma la parte romantica del calcio dove è finita però quella dell'attaccamento alla maglia di radice che racconta che quando vincevano le partite rilevano è finita da anni ma la gheminga la gheminga c'è stata sì c'è stata ma io temo come poi certi eventi anche milanistici risultano insomma fanno emergere questo non mi pare che ma forse con qualche eccezione vedi tonali per esempio io ho l'impressione che tonali eh sia uno che ci tiene sempre uno è stato tifoso fin da bambino eh è difficile che poi riesca a distaccarsi e quindi gli piace l'idea di essere la bandiera della società per cui per cui ha fatto il tifo insomma qui il gioco delle passioni è intenso quando è autentico quando è autentico cioè quando nasce dall'infanzia prima adolescenza ma al di là delle passioni eh il sistema calcio si tiene in piedi sostanzialmente con la vendita delle dei diritti televisivi la vendita dei biglietti e tutto il merchandising che è intorno in largo margine però non si possono enumerare primo posto diritti tv trentacinquesimo posto i biglietti quarantesimo posto le sponsorizzazioni ecco poi i posti intermedi non sono assegnati tale e tanta la distanza eh cioè siamo messi così ma tutto questo voglio dire riesce a sostenere in un qualche modo anche logicamente il costo che hanno effettivamente i i si dice cartellini dei giocatori vero? In un modo superato eh no no non si non si deve dire più è il costo del trasferimento però insomma avanticuo si diceva cartellini bene adesso mi sono presa nella preistorica perché era fisicamente un cartellino fisicamente un cartellino per l'onde il nome vabbè comunque il costo dei giocatori in senso ampio del termine questa cosa è giustificata dagli introiti che arrivano oppure ormai non 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 si so più ci ci sono delle società che che sono in eh non sono tante Napoli, Luminese, qualche altra eh che sono quelle che so io insomma perché non è che vado a nasare i bilanci delle altre insomma ci sono delle società virtuose eh Milano è che eh hanno recuperato delle esposizioni e hanno iniziato una politica di di investimenti per l'appunto virtuosa cioè non dico che sia quello che guadagno spendo e non spendo niente di più però eh la strada è quella ecco e poi ci sono altre società che invece no insomma come del resto però in tutto il mondo degli affari eh non è molto diverso è tutto sui giornali questa è la differenza ma il questo mondo che cresce sempre per cui il valore economico del calciatore eccetera eccetera poi si aprono le inchieste il tema delle plusvalenze e quant'altro non sarebbe auspicabile un abbassamento dei toni per consentire un'attività anche sportiva un pochino più romantica se mi passi il termine non è una domanda io mi rendo conto degli affari sono persona che vive di realismo ci mancherebbe però rispetto ad uno sport eh il crederci fino in fondo non quindi essere proprio figli dell'utile del guadagno spostarsi a secondo dell'utile quanto è possibile un ritorno a una vecchia logica diciamo così oppure ormai questa è persa e avremo sempre più competizioni internazionali giocate su eh quattro cinque dieci squadre che investono un sacco di soldi ma io credo che sia difficile una retrocessione al calcio degli anni venti perché quello o trenta perché è quello il calcio di cui stai parlando eh è un'impresa è un'industria anzi eh quindi deve obbedire alle alle leggi industriali leggi tra le virgolette insomma poi che ci siano delle iniezioni ci sono delle iniezioni di eh passione e quindi anche di romanticismo il mio episodio personale raccontato ieri non è isolato ci sono un sacco di persone che hanno un tasso di sofferenza elevatissimo io ho un benzinaio per esempio che vedo tutte le mattine che è un interista e lo evito oppure lo guardo a seconda dei risultati questo con l'industria non ha niente a che fare e quindi c'è però non è più il motore principale di uno sport che si è industrializzato questa è la realtà di nuovo non so se sia un bene o un male ma è realistico le cose stanno così quindi il tema delle plusvalenze che è stato oggetto che hai fatto anche hai reso recentemente un'intervista sul Corriere cioè sì ma perché l'ho fatto quell'intervista lì perché vari svariati anni fa nel 2008 me ne occupai per il Milan e poi era coin colpata anche l'Inter allora lì la tesi di fondo è banalissima che in difetto di parlo a un avvocato listini o mercuriali è impossibile determinare il prezzo in partenza cioè ex ante di un giocatore lo puoi fare ex post ma le valutazioni ex post non valgono niente cioè sono buoni tutti per cui dare un valore e stabilire che quel valore lì è il valore giusto mentre ogni valore diverso è quello sbagliato ed è frutto di un inganno di un sistema che comporta delle delle poste di bilancio farlocche è del tutto arbitrario quindi io mi rendo conto che nella percezione popolare certi movimenti possono apparire anomali però questo è la percezione popolare nella realtà non esiste una colonna giuridica che sostenga una cosa di questo genere in Italia il calcio è sostanzialmente pane per tutti i denti nel senso che tutti sono come minimo allenatori di serie A come minimo e se il calcio poi lo intendiamo come un'industria dovrebbe essere una delle prime industrie del paese almeno per interesse mettiamola così allora io mi chiedo se queste sono le premesse io che non ci capisco niente ve lo chiedo proprio con cuore in mano e limpidezza come mai sono otto anni che noi il mondiale non lo vediamo io non appartengo alla razza allenatori in pectore questo francamente non lo so ma una delle ragioni che viene indicata è l'apertura massiccia ai cosiddetti stranieri a partire dalle squadre giovanili per cui ci sono meccanismi che ti consentono di allevare calciatori in età tenera soprattutto infracomunitari intracomunitari ma anche extracomunitari se quelli sono più bravi e chiari e costano meno è chiaro che le società hanno più interesse ad avvalersi di questi con pregiudizio severo dei risultati della nazionale però questo discorso potrebbe andare bene per tutte le altre nazionali appunto ecco quindi c'è qualcosa che non funziona in qualche modo sì ci sono secondo me dei momenti buoni dei momenti cattivi nella produzione di giocatori cioè non drammatizzerei questa cosa qua ci sono dei momenti cattivi per la generazione di calciatori e dei momenti migliori insomma per me sono cicli non voglio scomodare Vico ma sono cicli che sono abbastanza normali ecco quindi io poi confesso francamente che non ho una viscerale passione per la nazionale quindi io risalgo molto indietro nel tempo 1970 quando Rivera non venne fatto giocare nella finale contro il Messico contro il Brasile contro il Brasile la città del Messico ecco e quindi da allora io ho chiuso un eterno livore nei confronti della nazionale che dura e agevole il conto 52 anni però devi ammettere che rispetto al calcio quella partita lì che tu hai citato resta considerata una delle partite è valutata come una delle partite storiche del novecento poi alla fine no quella è l'Italia-Germania sì sì mi riferivo perdono a quei mondiali Italia-Germania 4-3 eccetera eccetera e lì è un'impresa sportiva allora il bilanciamento fra attaccamento sport e denaro se tu dovessi dare un giudizio su questi tre elementi come li metteresti rispetto a una gestione di una società cioè io compro faccio un investimento perché diventa uno sportello o come dire un canale per entrare in contatto con la realtà imprenditoriale ma non ci metto cuore prendi il caso del Paris Saint Germain in qualche modo è puro denaro non è solo dammi un tuo giudizio su questo se dovessi essere io la passione è assolutamente al primo posto al secondo posto ci sarebbe una valutazione realistica del mio portafoglio che con tutta franchezza non è in grado neanche di comprare una squadra ipodilettante quella dell'oratorio sì neanche e quindi e basta ci sono questi due parametri qui della visibilità non mi interesserebbe niente personalmente nulla quindi lo farei solo per passione poi cosa ci sia nella testa di soggetti che non hanno vedi Berlusconi, vedi Moratti le nomino degli altri Sensi della Roma la famiglia Agnelli che certamente quando si sono insediati sono stati dominati più dalla passione che dal resto che dalle altre valutazioni io credo che l'elemento della passione sia sempre stato la chiave credo meno alle passioni non so neanche come chiamarle di secondo arrivo cioè bisogna partire con la passione e poi di conseguenza seguono le altre cose le altre valutazioni eccetera farsi venire la passione metà strada è complicato ma è meno intenso è meno intenso è meno produttivo ecco no o darsi invece che sia produttivo sì produttivo finanziariamente perché così ti liberi magari più agevolmente cedi più agevolmente giocatori che rappresentano se non una bandiera perché quelle usano pochissimo adesso soprattutto in serie A però sono degli asset di richiamo ma hanno corrispondentemente un grande valore sul mercato allora fai prevalere questo secondo dato piuttosto che il primo lei lei è stato fortunato mi sembra di capire perché è riuscito a collegare comunque il suo lavoro a una grande passione un culo bestiale ecco siccome ci stanno ascoltando no andrà a ridere perché noi abbiamo fatto un po' di spoiler su questa puntata e ci sono arrivato un sacco di richieste ma chiedete come si fa a fare quel lavoro lì come bisogna formarsi qual è il procuratore sportivo che cos'è un procuratore sportivo eccetera 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 allora chi meglio di lei appunto chi meglio di lei può risponderci innanzitutto qual è l'iter per arrivarci ma prima di tutto bisogna fare il corso che faccio io e sostenere un esame che generalmente è ridanciano perché io do questo non è egocentrismo modello Orsini no devo dare una spiegazione e partire fatalmente dalla base quindi bisogna avere una preparazione di base che io non do libri di testo o meglio li do i libri di testo poi dico che tanto io li interrogo su quello che dico e quindi poi non seguo il libro di testo e quindi devono frequentare già lì abbiamo capito una casa poi ci sono dopo la laurea dei corsi che vengono organizzati io parlo della statale di Milano perché è quella che conosco dei corsi che vengono organizzati che sono un po' più anzi molto di più di approfondimento dove vengono svolte e insegnate soluzioni di carattere pratico cioè per esempio si simulano dei processi in cui c'è una ci sono tutte le varie parti con soggetti che fanno quindi però sono tipo master di approfondimento di diritto sportivo ma il diritto sportivo è una curiosa cosa perché è fatto è una materia multidisciplinare per dirla in termini più correnti è un casino perché è poli composta dal diritto amministrativo dal diritto civile dal diritto penale dal tributario quindi è come si faceva una volta quando uno faceva l'avvocato una volta doveva sapere un po' di tutto ecco adesso non è così nel diritto sportivo invece è così quindi bisogna avere la famosa visione globale che tu non puoi fare il diritto sportivo occupandoti soltanto per dire del trasferimento dei giocatori dal punto di vista sportivo e civilistico è insufficiente perché le voci che devi in relazione alle quali devi avere una importante infarinatura quantomeno sono molte di più perché per esempio devi sapere come si muove il contenzioso e c'è io il contenzioso non lo faccio non si può non si può fare alla mia età ma prima non si può poi c'è un altro argomento che io cerco di spiegare sempre ai miei studenti che le società allora la regola è che uno deve campare cioè deve ricavare nel proprio lavoro il necessario auspicabilmente assai più del necessario per sopravvivere sì perché tu tocchi il tema del profitto che nella professione legale ultimamente come dire diventa sempre più una questione metafisica la sopravvivenza è un discorso il profitto è un altro i colleghi che mi sentono lo sanno ma non solo della professione legale no io sono tifoso del profitto il profitto è la base del sistema di divisione evidente naturalmente quando è collegato è sempre giustificato se ovviamente acquisito legalmente poi come dice come diceva mi pare i annacci sì i pistola in carriera ci sono sempre cioè le persone che ottengono profitti senza avere alla base dei meriti di carattere culturale quello lì però caro mio come tu sei meglio di me ma come va nel senso che è chiaro parte del normale svolgimento della vita poi il problema è questo però che siccome c'è questa già campà le società che ti consentono di realizzare l'obiettivo del profitto maggiore o minore sono pochissime cioè prevalentemente sono le società di serie A e il calcio poi in un evidente decalage c'è qualche società di serie B che ti consente di farla nessuna di serie C io sto parlando di profitto non di di diritto agli alimenti che è una cosa diversa nel basket qualcosina tutti gli altri sport non ti consentono di fare solo quello cioè il diritto sportivo e attenzione fare solo il diritto sportivo non è per esempio il mio caso richiede quella competenza insomma quella infarinatura quantomeno di carattere generale che ti costringe a studiare un sacco purtroppo non c'è un'area in caso non me ne intendo tu se fai il diritto sportivo che ha tempi brucianti brucianti devi essere sul pezzo anche se la materia non è strettamente la tua oppure essere molto organizzato cioè avere uno studio con tanti colleghi che sappiano un pezzettino ma questo ha dei costi spaventosi quindi finisce per neutralizzare l'aspirazione al profitto senti ma no un consiglio per i giovani che invece non vedono l'ora di fare il procuratore sportivo dopo avergli detto che se pensate di fare il procuratore sportivo nel curling forse è il caso che cambiate idea o aggiungete qualcos'altro un pochino così loro si sono fatti in università si fanno i loro by master e a quel punto cambiano mestiere cosa volete che vi dica fare il procuratore sportivo è un mestiere che a me non mi è mai neanche passato per l'anticamera del cervello di farlo che richiede delle qualità diverse da quella di fare l'avvocato perché prevede l'assistenza alla persona fisica atleta allora il badante del calciatore in pratica però ci sono io a me risulta che ci sono procuratore che si occupano anche dei minimis delle vite dei dei è un mestiere che al di là di quello che si legge sui giornali e al di là dei casi Mendez o Rayola o qualcun altro insomma che esiste però è un mestiere che contiene molti elementi di basso cabotaggio e beh ma per forza sono quei mestieri in cui in realtà o arrivi al top e allora funziona in un certo modo o altrimenti te la devi cavare in maniera come dire un po' conviene in qualche misura esattamente esattamente avere il grande atleta fare la scoperta del grande atleta e portarlo da una squadra da una società all'altra di qualità è da pochi eh eh sì ma è un po' come fare come un mestiere artistico se fai il cantante e vendi 20 milioni di copie di dischi funziona se no per fare serata in balera è più complicato ecco insomma io seguo anche quel settore lì quello degli artisti e soprattutto delle case di produzione ho a che fare spesso con gli agenti degli artisti e sì chifre di bassissimo livello senti intanto dopo tanti anni tu vieni dal Milan e vabbè io sono affezionato al Milan di Farina ovviamente quello di Berlusconi non parliamo ma se tu dovessi un episodio che ti ha veramente divertito qualche qualche racconto di qualcosa che è successo una una conoscenza particolare eh divertito io ho sempre vissuto il mio lavoro in uno stato d'ansia significativo perché non mi personalmente non mi sono mai sentito all'altezza delle cose che mi capitava di fare e quindi ho sempre dovuto rampegarmi per dirla la milanese eh su montagne che secondo me erano troppo alte per le mie capacità eh quindi mi sono divertito molto poco posso dire ecco una vita di sofferenza sì di sofferenza con la compagnia delle benzodiazepine calcolate perché siccome voglio evitare di rincoglionirmi prima del tempo eh quindi sempre con dosi omeopatiche però che mi hanno consentito di sopravvivere ecco se posso uno proprio all'esordio con Giussi Farina gentiluomo di Campania Vicentino eh io il mio giudizio su di lui è un giudizio eh estetico eh non entro in altri dettagli era una persona simpatica e poi era un signore ecco cioè era una persona che sapeva come si stava al mondo sapeva le regole eccetera quando lui mi prese la prima cosa che gli dissi è guardi che io di questo non so niente quindi è un'avventura e lui mi disse guardi che la differenza fra lei e tutti gli altri è che gli altri non sanno niente e dicono di saperne lei non sa niente e almeno lo ammette quindi e mi rifilò una questione strapersa e io gli dissi senta io non ci vado a fare una roba così perché io ho la mia dignità quindi non andare a perdere eh no eh no così comincia male bisogna invece anche fare queste cose ecco e ho torto collo senza divertirmi andai a perdere questa cosa facendo in modo di contenere nei limiti massimi il mio disonore è stato divertente no creativo creativo sì beh questa è la professione dell'avvocato cioè voglio dire alla fine questo facciamo in sostanza non dico non perdere ma ma sostenere una linea che funzioni pensavo limitarci a mantenere la dignità perché almeno quella la portiamo a casa io poi ho sempre seguito una linea che è sempre stata quella di raccontare solo le mie sconfitte questo per un desiderio di equilibrio cosmico perché gli avvocati raccontano sempre e solo le loro strepitose vittorie allora è evidente che quando c'è una vittoria c'è anche una sconfitta contemporanea no? non le racconta mai io racconto solo quelle in modo tale da dare equilibrio alla sfera celeste perché per forza bisognerà pur che qualcuno le racconti quindi e racconto le più vergognose quelle che tuttora non mi hanno abbandonato cioè ogni tanto mi sveglio la notte a pensare alle puttanate che ho fatto perdendo delle cose sentimi va bene io direi facciamo così sta a sentire vediamo come vanno le prossime partite ma io lì non c'entro no lì non c'entro no no aspetta facciamo così lo diciamo anche alla Laura poi se funziona qui lo diciamo gli ascoltatori non milanisti si incazzeranno e abbandoneranno il programma ma pazienza e li accoglieremo come fratelli quando sarà il loro momento e come dire apriamo la Jeep e se va bene tutto andiamo in giro con la bandiera del Milan ma non succederà perché il campionato lo vince l'Inter lo vince l'Inter sì non succederà io in questo delirio non vi seguo niente bandiere niente strombazzamenti per la città oltretutto io abito a Milano non dirò la via però in una delle strade principali ogni volta che una delle squadre vince passa sotto casa mia e non mi permette di dormire ma è solo la notte eh infatti io mi sono trovato un trattore con la bandiera dell'Inter è molto meglio quando vince la Juve perché sono più contenuti a Milano vanno a Torino e si sfogano lì e io sono più felice quindi adesso non ho la più pallida idea della classifica ma fate Vobis no ma noi nella classifica non la citiamo va bene in compenso sono veneziani ho scoperto che il Venezia è in Serie A non so per quanti giorni ancora ma è in Serie A eh beh sì è vero è una società che ha la sua gloria eh naturalmente però ha fatto un campionato difficile va bene ma sono le tipiche questo penso adesso indipendentemente dal Venezia da quanto le piccole società che fanno quell'anno in A perché ci sono arrivate non si sa bene come e poi non se lo possono permettere tornano indietro no no il Venezia non è messo male da quel punto di vista lì dimmi un'ultima cosa che secondo me può essere di interesse il rapporto che corre fra le società calcistiche e i tifosi che è una cosa che ogni tanto si legge il legame come sono le come funziona i capi le curve e quant'altro che legame c'è è una cosa un po' complicata io cerco di sintetizzarla esiste un soggetto all'interno di ogni società cui presenza è obbligatoria che deve gestire i rapporti con i tifosi sono considerati virtuosi a fini che sarebbe troppo lungo raccontare i rapporti con le società che corrispondono a certe regole hanno un certo statuto e obbediscono a regole di civiltà poi che queste sono per il Milan è l'associazione italiana Milan Club poi ci sono i cosiddetti Ultra e Ultra sono una categoria di tifosi diciamo così un po' inquieti con i quali alle società è vietato pena sanzioni disciplinari severissime la Juventus ebbe un problema qualche anno fa e l'ho seguito io professionalmente con dei gruppi di Ultra allora sono tetanici questi perché bisogna per le società non avere a che fare con loro cioè nonostante è indispensabile anche comunicare con loro perché il compito di questo soggetto che si chiama Slow è quello che ogni società deve avere è un compito anche di pacificazione perché come abbiamo detto prima il calcio è dominato dalla passione e la passione fa fare delle cose sbagliate molte volte anche nei rapporti tra gli uomini e le donne e ancora di più nei rapporti tra gli esseri umani e un soggetto abbastanza astratto che è una società di calcio quindi il rapporto con i tifosi è sempre una cosa delicata oggi con il decreto legislativo 36 del 2021 è stato introdotto un organismo all'interno delle società combattutissimo questo organismo dalle società medesime che è tenuto a emettere pareri e curiosa è l'espressione del legislatore obbligatori ma non vincolanti che riguardino gli interessi dei tifosi il concetto di interessi dei tifosi vi potete immaginare che macro dimensione ha figuriamoci l'obbligatorio ma non vincolante insomma beh ma è un po' come il severamente vietato dei treni perché c'è il vietato e il severamente vietato io sono contrario a quelle avverbiazioni o è vietato o non lo è o non lo è non è severamente ma è una vecchia battaglia io combatto di carattere linguistico quindi sì ma è persa siamo tutte e tre dei vecchi diciamocelo che siamo tutte e tre dei vecchi liberali quindi come tale soffriamo io senz'altro quindi te ti ho testato quindi lo so ma questa è una battaglia che tutti abbiamo iniziato a scoprire il primo giorno di università a giurisprudenza cioè quella è stata la prima lezione che ci hanno fatto se la ricordate era su questa e quindi in conclusione come sono i rapporti poi adesso cioè sono complicati da gestire istituzionalmente sicuramente articolati sai ci sono dei bruti purtroppo e più che brutti adesso il problema del razzismo che per me prima di tutto è un problema di ma non dico delle banalità ecco ma è un problema di cultura e di volgarità dell'animo perché solo una persona profondamente volgare rozza viene in mente di ueggiare una persona non perché giochi male ma perché ha un colore di pelle che non gli va bene ci vuole una così profonda volgarità che mi fa ritenere che sia inestricabile e cioè che sia ineliminabile esatto perché le persone così si manifestano poi in tutti i contesti sociali tutti cioè quelli che ti insultano quando sei in macchina ti fanno il dito quando hanno manifestamente torto appartengono a quella razza lì e sono purtroppo soggetti che fanno parte non abusiva perché ci sono e quindi appartengono a un'area della realtà difficile eliminarli questi sono secondo me il vero problema perché sputtanano il calcio si si lo sputtanano va bene io ringrazio il nostro ospite per essere stato qui con noi per averci svelato qualche segreto del mestiere e con non moderata passione no no ma poi con Leandro ci vedremo in altre occasioni grazie Leandro che sia stato con noi valutiamo i nostri ospiti volevo no c'è una cosa volevo dire agli interisti ribadire agli interisti di stare tranquilli va bene ma questo mi associo no cosa ti associ al campionato l'ha già vinto loro l'ha vinto loro l'ha già vinto loro basta difendo difendo io i miei ascoltatori visto che vengono da tutta Italia ci saranno anche romanisti razziali santoriani quindi questa cosa oggi del Milan è venuta fuori un po' così abusivamente però voi non vi preoccupate che ci ascoltate da casa anzi seguiteci anche sul canale youtube che abbiamo appena aperto mettete like seguite le piattaforme un bacio a tutti ai ragazzi che ci seguono che volevano le risposte sul procuratore sportivo noi ve le abbiamo date il prof è lui ciao ciao Leandro buona giornata ciao a tutti ciao 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 ciao